E' la più bella e la più intelligente coglione che ho mai conosciuto. Ma non vuoi fare film. Mi spiego. Mi comincio a spiegare la gente come è fatta mia moglie. Non sa niente con cui sto passando allora. Tu sai che mi dici sempre, amore, che penso sui soldi. Ma forse te ne puoi ragionare, amore. Ma perché lo faccio secondo te? Lo faccio per la famiglia. Per il padre, per il fratello, per i figli che hanno arrivato. Ma scusa, non andano a vivere una vita con la mia, è pure meglio la mia. Ma sto sbagliando, amore. Tu sei una persona istruita. Di me le sei se sto sbagliando. Ma sixine. Grazie